Cosa vi ha spinto a creare questo team per allenare la nazionale di questo piccolo paese, una nazionale comunque non tra le importanti? Cosa ha fatto il click? Io penso di chi, quando mi è arrivato una invitazione per fare una cena con il Presidente, la federazione certamente, la prima cosa che abbiamo parlato in italiano, avevo avuto già un'esperienza nell'Inter, parlavo di italiano, dopo di quello lì ho iniziato un percorso indietro del calciatore albanese in giro, ho visto che loro parlavano inglese, spagnolo, italiano, io posso comunicare con tutto il calciatore senza un interprete, lì mi ha spinto tanto, la prima volta mi ha spinto tanto, non aveva dubbio, ho parlato con Doriva, Paolo accettato, per lui benissimo, è stata facile dopo di quello lì.